Self Publishing Italia Episodio 43 Ciao, benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia. Oggi affrontiamo un argomento centrale del Self Publishing, cioè cerchiamo di capire quali sono i costi da affrontare per chi vuole intraprendere questa strada. Diciamo subito che il Self Publishing non è a costo zero, ecco io lo dico subito così chi per caso pensasse il contrario può cambiare canale. Ci togliamo subito ogni dubbio, il Self Publishing non è gratis, l'ho detto tante volte ma è sempre bene ripeterlo. Purtroppo molti pensano che tutto ciò che è online, tutto ciò che si può fare con un computer possa essere gratis e invece non è così perché pubblicare un libro non è un'operazione priva di costi, è un'operazione che dobbiamo fare con qualità perché ovviamente io penso ad un Self Publishing di qualità e la qualità professionale, le competenze professionali a meno che tu non le abbia in prima persona, ma in genere è raro che tu abbia tutte le competenze che servono per portare un libro alla pubblicazione, allora se non le hai tu ovviamente devi pagare chi le ha, quindi le competenze hanno un costo. Ora vediamo nel dettaglio quali sono i costi del Self Publishing, quali sono le voci di spesa che devi tenere in considerazione, di cui devi essere consapevole prima di cominciare il tuo percorso di autopubblicazione. Primo sicuramente l'editing, se sei un autore indipendente come prima cosa devi sostenere i costi dell'editing, cioè i costi per far revisionare il tuo testo, per controllare che lo sviluppo dell'intreccio sia organico, che lo stile sia uniforme, che i personaggi siano approfonditi e così via. Abbiamo già parlato in altre occasioni di editing, di quante e quali tipologie di editing esistono, di cosa fa esattamente un editor, quindi se vuoi approfondire questo argomento io ti consiglio di andare a riascoltare episodi precedenti di Self Publishing Italia o di andare a leggere gli articoli relativi che trovi su librosa.com. Subito ti posso dire però che l'editing non è un'operazione che puoi fare da solo, non in toto perlomeno. Nessuno può essere un giudice imparziale di se stesso e quindi nemmeno chi scrive bene o chi pensa di scrivere bene può correggere da solo i propri testi, tutti hanno bisogno di un editing esterno, di un occhio professionale allenato che valuti e corregga il proprio testo. Quanto costa l'editing? Ecco, allora qui la risposta non può essere univoca e ti dico subito che anche in tutti gli altri passaggi che adesso andremo ad analizzare in realtà non c'è un prezzo fisso. In rete trovi i prezzi più disparati per i servizi di editing offerti dagli editor freelance, prezzi che vanno dai 2 euro a cartella in su. La maggior parte dei prezzi di cui parleremo oggi sono considerati a cartella. Ti ricordo qui brevemente che per cartella editoriale si intende una porzione di testo che è lunga, 1800 caratteri spazi inclusi, quindi non conta quante pagine ha il tuo file perché in fondo il numero di pagine dipende da come gestisci il formato di pagina, l'impaginazione stessa. Quello che viene considerato è il numero di cartelle. Allora, l'editing può costare da poco a molto, dipende da tanti fattori, e sicuramente dipende anche dall'esperienza e dalla professionalità dell'editor a cui tu ti rivolgi. Ma come si fa a scegliere un editor bravo? Se un editor è bravo, soprattutto se è bravo per te, purtroppo tu lo scopri solo lavorandoci insieme. In realtà non c'è una caratteristica che io possa dirti qui da tenere presente per trovare un editor bravo. In realtà anche un editor che può essere stato bravo con un tuo conoscente, con un altro autore e che te lo consiglia, potrebbe non essere bravo per te. Dipende da molti fattori, dal resto bisogna lavorare insieme su un testo, quindi conta sicuramente l'esperienza, contano sicuramente le competenze, però bisogna anche poi trovarsi a livello umano, riuscire anche a instaurare un rapporto umano perché bisogna lavorare insieme sullo stesso testo. Posso dirti però che a mio avviso come primo elemento un editor serio non ti propone un preventivo senza aver letto il tuo testo, quindi io ti consiglierei di diffidare da quegli editor freelance o da quelle agenzie che ti propongono un prezzo fisso per l'editing del tuo testo senza leggerlo prima, perché il lavoro di editing è come un lavoro di sartoria artigianale, è un vestito su misura per il tuo libro, allora non si può fare il preventivo di un vestito su misura se non si prendono prima le misure, quindi il consiglio che posso darti sicuramente è questo. Ti consiglio quindi di affidarti a editor professionisti che validino il tuo testo prima di proporti un preventivo. Di sicuro però l'editing è la spesa maggiore che sosterrai, è il costo più alto tra quelli che devi prevedere nel tuo percorso di self-publishing. Puoi eliminarlo? No, assolutamente no. Puoi ridurlo, questo costo, affidando magari il lavoro a un tuo amico o a un tuo parente? Dipende, se il tuo amico o se il tuo parente è un editor di professione e ti fa il lavoro gratis, allora sì, sicuramente ti consiglio di approfittare della sua generosità. Ma attenzione, essere bravi in italiano, aver avuto buoni voti a scuola, essere stato bravo nei temi non significa saper fare l'editing di un testo e nemmeno avere scritto un libro significa essere bravi a correggere i libri altrui perché migliorare un testo scritto da qualcun altro rispettando lo stile dell'autore è una competenza specifica per la quale non basta saper scrivere senza errori. Sono necessarie delle competenze in più di scrittura che si maturano e si affinano con l'esperienza. Allora il mio consiglio è quello di non risparmiare su questo passaggio. L'editing è la prima voce di questo elenco che noi oggi facciamo ma è sicuramente la più importante perché è quella che ti costerà di più ma è anche quella sulla quale non puoi lesinare, non puoi risparmiare. Se la storia non convince, il testo non scorre, il tuo libro non potrà avere successo, non ci sono alternative. Piuttosto se proprio tu hai dubbi, non vuoi spendere troppo per un editing magari che poi si rivela inutile allora il mio consiglio è quello di cercare un servizio di valutazione inediti, ce ne sono molti online anche in forma gratuita, per capire se la tua storia ha un valore, se è ben costruita, se può funzionare e quindi se vada la pena poi cominciare tutto il percorso. Seconda voce di spesa, la correzione di bozze. La correzione di bozze è l'ultimo passaggio di revisione di un testo e serve ad eliminare i refusi e gli errori di ortografia. È compresa nel costo dell'editing? No, non sempre. Attenzione anche qui, alcuni editor freelance oltre all'editing ti offrono anche la correzione di bozze. Come ti ho detto in altre occasioni, infatti un editor può fare la correzione di bozze, però non sempre poi accade o comunque non è vero il contrario. Chi fa solo correzione di bozze non può fare l'editing. Chi fa editing può fare correzione di bozze ma lo deve specificare perché ci sono alcuni editor freelance che non fanno la correzione di bozze per cui tu poi devi trovare qualcuno che la faccia. Allora controlla innanzitutto se nel preventivo di editing che ti viene proposto è compresa anche la correzione di bozze. Se non è specificato chiedi perché se non è specificata la correzione, se non è compresa devi sapere che poi invece tu dovrai comunque sostenere una spesa per questa voce. Quanto costa la correzione di bozze? Anche qui i prezzi sono vari e dipendono ovviamente dai freelance che ti li propongono o dalle agenzie che ti li propongono. In rete io ho trovato prezzi che partono da un euro a cartella e poi salgono fino a 8, 10, 15, dipende. Anche qui a mio avviso un preventivo serio dovrebbe essere fatto solo dopo aver visionato il testo perché correggere un testo che contiene pochi refusi e che fondamentalmente è scritto bene non può costare come correggere un testo che invece di refusi è pieno zeppo. Quindi anche qui il mio consiglio è quello di non credere a preventivi a prezzo fisso, di non fidarti dei prezzi fissi. La correzione di bozze in realtà è l'ultimo passaggio di una revisione ma come l'editing è un passaggio che deve essere calibrato su misura per il tuo testo e quindi a mio avviso anche il prezzo di una correzione di bozze dovrebbe essere a misura del tuo testo. La correzione di bozze è un'operazione che puoi fare da solo per risparmiare? No, non del tutto, perlomeno non del tutto. Sicuramente io ti consiglio di leggere più e più volte il tuo testo. In un'altra occasione abbiamo anche visto quali sono i passaggi che tu puoi fare sul tuo testo per correggerlo, quindi per migliorarlo il più possibile. Però ad un certo punto, secondo me, è comunque necessaria una lettura incrociata da parte di qualcun altro. Cioè non basta che il testo sia visto solo da te. È indispensabile che il testo venga letto anche da qualcun altro. Potresti affidarti a qualcuno di tua conoscenza che scrive bene e che può riconoscere gli errori, ma anche qui l'esperienza di correzione di bozze è un'esperienza diversa da quella di chi legge per il proprio piacere. E quindi anche qui ti consiglio l'ultima lettura, l'ultimo passaggio, l'ultimo giro di bozze, come si definisce in termine tecnico, fallo fare a un professionista. Se tu avrai fatto un buon lavoro di autocorrezione, sicuramente poi il preventivo che il correttore professionista ti farà potrà essere un preventivo più basso. Terzo passaggio, la conversione in ebook. Dopo aver completato la fase di revisione del testo, arriva il momento di formattare il tuo testo e di convertirlo in formato digitale per essere poi pubblicato come ebook in tutte le librerie online. Si tratta quindi di portare quello che è un tuo file di testo a diventare un file Mobi, per esempio, per la pubblicazione su Amazon, oppure un file EPUB per la pubblicazione in tutte le altre librerie online. Quanto costa convertire un testo in formato ebook? Il prezzo di realizzazione di un ebook varia dai 40 agli 80 centesimi a cartella. A volte puoi trovare qualcosa in più se si tratta di impaginare un testo più complesso, per esempio un testo che contiene molte immagini, che contiene grafici, che contiene tabelle. Altrimenti i prezzi che io ho visto online sono quelli che si aggirano tra i 40 agli 80 centesimi a cartella. Per poter fare un confronto però tra le varie proposte che trovi, controlla esattamente che cosa ti viene offerto. Controlla per esempio quanti formati digitali ottiene dall'operazione. Alcuni ti offrono con un solo servizio la realizzazione di entrambi i formati, quindi sia il formato Kindle sia il formato EPUB. Altri invece ti fanno solo un passaggio alla volta e quindi se ne vuoi due devi pagare due volte il servizio. Ecco, stai attento a questi dettagli perché il confronto tra vari prezzi deve essere alla pari. La conversione in ebook è un'operazione che puoi fare da solo per risparmiare? Sì, in questo caso ti dico assolutamente sì, ovviamente devi imparare a farla, ma non è difficile. È un'operazione tecnica e quindi come tale è un'operazione che imparata, appresa, acquisita, poi si replica sempre uguale. È proprio per questo che ti consiglio di imparare, perché se tu impari a convertire i tuoi testi in formato digitale, poi sei autonomo per ogni testo in futuro che vuoi scrivere, che vuoi pubblicare. Alcune piattaforme di self-publishing mettono a disposizione degli strumenti per la conversione del tuo testo in formato digitale. Per esempio, Streetlib, che è una piattaforma di intermediazione per il self-publishing, mette a disposizione il programma Write. All'interno di Write tu inserisci il tuo testo e poi viene convertito in formato e-pub. Oppure puoi imparare a convertire i tuoi file di testo da solo, senza usare programmi, come dire, di filtro come Write. Questo è sicuramente un passaggio che io ti consiglio di prendere in considerazione. Magari a breve, se hai fretta oggi di convertire il tuo libro, puoi pagare qualcuno che lo faccia per te, però a breve ti consiglio di inserire nel tuo calendario delle cose da fare. Questo, di imparare a convertire un libro in e-book per essere autonomo in futuro. Quarto punto, l'impaginazione. Convertire il tuo file di testo in formato digitale serve a preparare il tuo libro per il formato e-book, ma se tu vuoi pubblicare anche in formato cartaceo, devi impaginare il tuo testo per la stampa. Come sai, io consiglio sempre vivamente di prevedere anche la pubblicazione del proprio libro in formato cartaceo per molti motivi, quindi ti consiglio di prevedere anche questa voce di spesa. Quanto costa impaginare un libro per la stampa? Il prezzo varia soprattutto in relazione alla struttura delle singole pagine, perché, come puoi ben capire, impaginare un romanzo che contiene un numero di capitoli solo di testo non è come impaginare, per esempio, un manuale che è suddiviso in tanti sottocapitoli e paragrafi, oppure un saggio che è pieno di grafici e tabelle, oppure una rivista con immagini e didascalie. Quindi, ovviamente, il prezzo varia a seconda del tipo di testo, ma in genere online puoi trovare dei prezzi che vanno dai 50 centesimi ai 5 euro a cartella o più, ma per un romanzo, per un testo che abbia solo prosa, in genere il prezzo va ai 50 centesimi, un euro a cartella. Anche in questo caso è un'operazione che puoi fare da solo? Sì. L'impaginazione, come la conversione in ebook, è un'operazione tecnica e come tale la puoi apprendere. Sicuramente, però, per imparare ad impaginare un libro per la stampa ci vuole un pochino più impegno rispetto all'impegno che ci può volere per imparare a convertire un file in formato ebook. Si tratta di un passaggio un pochino più delicato, perché bisogna prendere dimestichezza con i software giusti, si può usare anche il semplice Word, ma se vuoi fare le cose in modo più professionale dovresti imparare ad usare programmi come InDesign della suite Adobe, quindi ci vuole un pochino più di pazienza. Ma questo non significa che non si possa fare. Forse ci vorrà qualche tentativo per arrivare poi ad un risultato curato e professionale, ma è sicuramente anche questo un passaggio che puoi imparare a fare da solo per risparmiare. La cosa bella è proprio questa, che una volta imparato a gestire i tuoi file, sia dal punto di vista digitale che dal punto di vista della stampa, i tuoi libri avranno un aspetto professionale esattamente uguale a quello dei libri pubblicati dalle case editrici. In questo caso, in questo senso, i libri self non hanno nessuna differenza rispetto ai libri pubblicati dalle case editrici. Il formato EPUB, se è fatto bene, è uguale per tutti e un libro impaginato bene, un PDF preparato per la stampa correttamente, è uguale per tutti. Quinto punto, l'ISBN, il codice ISBN. In genere, ogni piattaforma o libreria in cui pubblicherai il tuo libro ti fornisce un codice ISBN gratuito, quindi tu potresti non considerare questa voce come uno dei costi del tuo percorso di self-publishing e andare avanti. Attenzione però, i codici che ti vengono attribuiti gratuitamente all'interno di una piattaforma o di una libreria possono essere utilizzati solo all'interno della stessa. Questo significa che se Amazon ti dà un codice potresti usarlo solo all'interno di Amazon. Se Streetlib ti dà un codice, questo vale solo all'interno di Streetlib e così via. In questo modo, il tuo libro quindi viene abbinato a diversi codici ISBN, uno per ciascun canale di distribuzione. Se invece tu vuoi un codice univoco, un codice tutto tuo, da usare uguale in tutte le librerie, allora lo puoi comprare. Lo puoi comprare direttamente sul sito dell'ISBN al costo di 80 euro più IVA. Se ne compri un po' di più, ti fanno degli sconti. Ricordati però che un codice ISBN corrisponde ad un preciso formato o ad una precisa edizione del tuo libro. Quindi, se per esempio vuoi pubblicare il tuo testo sia in formato ebook sia in formato cartaceo, hai bisogno di due codici distinti. Sesto elemento, la copertina. La copertina è sicuramente la seconda voce di spesa per importanza dopo l'editing in un percorso di self-publishing. Anche della copertina abbiamo già parlato in altre occasioni. Qui ovviamente ti ricordo velocemente che la copertina è importante perché è la vetrina del tuo libro, non la puoi trascurare, perché è dalla copertina che un lettore si fa principalmente attrarre. Quindi anche qui ti consiglio di non risparmiare perché la copertina ha un peso molto elevato nella decisione di un lettore di acquistare il tuo libro. Quanto costa far realizzare una copertina che sia di qualità? Anche qui i prezzi sono i più disparati. Si va dalle poche decine di euro per il lavoro di un grafico freelance alle centinaia di euro per il lavoro di un grafico più famoso o di una tipografia o alcuni studi di grafici stranieri chiedono di più. Oppure potresti scegliere la strada del contest grafico di cui abbiamo parlato in un altro episodio che è una valida alternativa. Non costa certamente poco ma ha il vantaggio di garantirti molte più soluzioni tra le quali poi tu sceglierai la definitiva delle soluzioni che potresti invece ottenere rivolgendoti ad un unico professionista. Puoi realizzare da solo la copertina del tuo libro? Sì, però io te lo sconsiglio. A meno che tu non sia un grafico esperto rischieresti di fare un lavoro amatoriale che pregiudicherebbe l'impatto estetico del tuo libro in modo definitivo. Ricordati, come abbiamo già detto, che la copertina è la prima cosa che il lettore vede del tuo libro e che ti piaccia o no il tuo libro viene giudicato dalla copertina prima ancora di essere letto. Quindi, se vuoi essere letto devi fare in modo che il lettore compri il libro ma il lettore compra il libro se viene in qualche modo attratto. La copertina è il tuo primo amo a cui far abboccare il lettore. Settima voce di spesa per un elenco di coste del self-publishing è la quarta di copertina. Tu hai commissionato una bella copertina ad un grafico con esperienza e magari non hai preparato la quarta di copertina. Attenzione, la quarta di copertina merita tutta la tua cura perché in fondo il testo che viene inserito in quarta di copertina e che noi chiamiamo brevemente quarta di copertina è la descrizione che tutti i tuoi potenziali lettori leggeranno dalla quale poi verranno coinvolti a tratti convinti a comprare il libro. Se pensi che la quarta di copertina non ti serva perché tu vuoi pubblicare solo in formato ebook ecco, mi dispiace deluderti non è così perché tutti i libri hanno bisogno di un testo di quarta perché il testo di quarta è proprio il testo che tu andrai ad inserire nelle librerie e nelle piattaforme dove pubblicherai il tuo libro come testo di presentazione del libro stesso. Per esparmiare potresti realizzare da solo la quarta di copertina del tuo libro? Sì, certamente potresti ma anche in questo caso io non te lo consiglio. Come abbiamo già visto in altre occasioni parlando in modo più approfondito di quarta di copertina abbiamo detto che il testo di quarta non è un semplice riassunto del libro non va confuso con la sinossi il testo di quarta è un testo che deve raccontare qualcosa del tuo libro ma solo quel poco che basta per incuriosire i lettori è un testo che deve essere un testo persuasivo è un testo che deve convincere non un testo che deve svelare e per questo motivo spesso l'autore è la persona meno adatta a redigere il testo di quarta perché è troppo coinvolto dal proprio libro spesso non sa rilevare quali sono i veri punti su cui fare leva per attrarre i lettori e per spingerli all'acquisto scrivere un testo di quarta significa avere competenze di copywriting cioè di scrittura persuasiva che a volte sono competenze molto diverse da quelle necessarie per una scrittura di tipo narrativo o manualistico ottavo passaggio la distribuzione e qui c'è una buona notizia mettere in vendita il tuo libro sia in formato ebook che in formato cartaceo non costa nulla quindi questo passaggio è gratis che tu voglia pubblicare il tuo libro su Amazon su Kobo o su tutte le altre librerie online tutti questi siti non ti chiederanno nulla tu potrai creare un account e inserire e pubblicare i tuoi libri in realtà anche il passaggio della distribuzione ha un costo ma è un costo che tu non devi anticipare non è un costo che tu devi sopportare prima di mettere in vendita il tuo libro o prima di poter rientrare con i guadagni come i costi che abbiamo elencato finora in pratica il costo c'è ma non si vede come viene ripagato viene ripagato dal fatto che le piattaforme di self publishing si trattengono una percentuale sul prezzo di vendita dei tuoi libri proprio per ripagarsi del servizio che ti stanno offrendo a seconda del canale scelto quindi tu intascherai dal 40 al 70% del prezzo di vendita del tuo libro e il resto andrà a coprire i costi delle piattaforme e i costi di stampa e di spedizione nel caso per esempio del formato cartaceo del tuo libro visto che proprio dalle vendite del tuo libro tu otterrai i tuoi guadagni e visto appunto che i tuoi guadagni saranno ciò che ti permette di ammortizzare le spese che devi sostenere per fare self publishing allora il mio consiglio è questo fai in modo che questi guadagni siano i maggiori possibili scegli dunque i canali distributivi anche in base alle commissioni che possono garantirti e sfrutta i canali che ti offrono di più come abbiamo detto in altre occasioni ci sono alcuni canali attraverso i quali tu puoi pubblicare in maniera diretta e siccome il passaggio è diretto le commissioni sono maggiori in primis attraverso Amazon poi anche Kobo e soltanto dopo ti consiglio di utilizzare i canali come dire di intermediazione che ti permettono sì di arrivare in tutte le altre librerie ma che proprio perché sono degli intermediari si trattengono qualcosina in più nono passaggio quindi nono elemento di questo elenco di costi del self publishing la stampa delle copie personali dopo aver messo in vendita il tuo libro avrai sicuramente bisogno di alcune copie cartacee da distribuire gratuitamente ad amici o parenti o da inviare a blogger e giornalisti per richiedere recensioni o da inviare ad alcuni lettori come regalo di quante copie puoi avere bisogno dipende dipende dal numero di invi che intendi fare dipende dal numero di regali che intendi fare di sicuro io ti consiglio di non lesinare sull'invio di copie gratuite a chi ti può fare una recensione piuttosto se puoi limita il numero di copie regalate ad amici e parenti in realtà amici e parenti dovrebbero essere i tuoi primi supporter i tuoi primi fan e quindi dovrebbero comprarlo il tuo libro quindi non farti prendere dal senso di colpa e non regalare il tuo libro a tutte le zie a tutti i cugini anzi chiedi loro di comprarlo il tuo libro piuttosto cerca blogger cerca giornalisti interessati al tuo genere letterario ai quali inviare gratuitamente il tuo libro chiedendo una recensione le copie personali quindi comunque ti serviranno sono una voce di spesa da tenere presente sarebbe sciocco dimenticarsene visto che stiamo facendo un elenco completo di tutto quello che è un costo per chi vuole fare self publishing però proprio perché si tratta di un costo vivo allora il mio consiglio è di ottenere queste copie personali al minor prezzo possibile online trovi molti servizi validi di print on demand che sono i servizi di stampa ai quali tu ti rivolgerai proprio per ottenere queste copie il mio consiglio è di valutare le offerte che trovi online di confrontare tra di loro le offerte magari di testare con ordinativi minimi i servizi che ti sembrano migliori per valutarne poi la qualità di stampa e alla fine di scegliere il servizio di print on demand che ti garantisce il miglior rapporto tra prezzo e qualità di stampa infine decimo e ultimo passaggio di questo elenco di costi del self publishing la promozione qui si apre un mondo di possibilità promuovere un libro è un processo lungo e articolato e composto di tanti passaggi di molte scelte sei tu che decidi come quando dove promuovere il tuo libro e per quanto tempo di sicuro però non puoi pensare di vendere copie del tuo libro e poi quindi di rientrare delle spese sostenute grazie ai guadagni di queste vendite senza promozione comincia dalle tecniche di book marketing a costo zero che ti permettono di promuovere il tuo libro senza spendere altri soldi il tuo obiettivo una volta che il libro è pubblicato è quello di cominciare a guadagnare perché hai già sostenuto molte spese allora comincia con tutte quelle tecniche di book marketing gratuite ce ne sono molte se non hai idee a riguardo vai su libroza.com e scarica la guida gratuita in cui ti spiego appunto come promuovere il tuo libro a costo zero elencandoti 33 strategie gratuite di book marketing solo quando sarai rientrato almeno in parte delle spese sostenute grazie alle vendite dei tuoi libri allora se vorrai potrai investire in promozione e utilizzare nuovi strumenti promozionali questa volta a pagamento e allargare quindi il tuo raggio di azione ma all'inizio non ti scoraggiare sappi che puoi fare davvero tanto nel campo della promozione senza spendere soldi ora alla fine di tutto questo elenco forse sei scoraggiato e ti stai chiedendo se vale la pena affrontare il self publishing certo se pensavi che fosse un percorso totalmente gratuito allora forse è meglio che hai scoperto prima la verità però sappi che la mia risposta a questa domanda se vale la pena fare self publishing è assolutamente sì perché perché a mio avviso i vantaggi del self publishing e primo fra tutti la possibilità di controllare tutte le fasi del proprio progetto editoriale vale molto di più di questi costi il fatto di poter essere tu a decidere qualsiasi cosa che riguarda il tuo libro dal contenuto alla copertina ai modi ai luoghi di pubblicazione alla promozione in tutte le sue fasi per me vale molto di più rispetto al fatto di essere pubblicato con un editore per me la gratificazione di aver creato un prodotto di qualità professionale e quindi di proporlo ai lettori e di ricevere da questi apprezzamenti sia in forma di acquisto sia in forma di feedback positivi sono elementi che non hanno prezzo poi come dice la pubblicità per tutto il resto per tutto il resto c'è Librosa io sono sempre qui per darti consigli e spero che questi consigli ti siano utili per oggi mi fermo qui spero che questo argomento sia stato per te interessante raccontami quali sono state le tue esperienze nella gestione del tuo percorso di self publishing se hai avuto delle spese inaspettate se hai speso di più per passaggi che reputavi dovessero costare poco o viceversa se sei riuscito ad ottenere pagando poco o perfino gratis elementi importanti come l'editing o la copertina scrivimi sul sito librosa.com oppure mi trovi su tutti i social sempre con il nome di Librosa io ti ringrazio per avermi seguito fin qui anche oggi e ti aspetto al prossimo episodio un saluto da Carmen La Terza ciao Self Publishing Italia perché il self publishing è una cosa seria un saluto un saluto Grazie a tutti.